Buon lunedì a tutti, buon inizio settimana, sono gasato da capolista, cioè inizio settimana da capolista. Certo questa sosta non ci voleva perché comunque come sempre io non la posso vedere la sosta, però per fortuna è l'ultima, poi fino a fine anno e fino a marzo dell'anno prossimo non se ne parla più. Semigasa, Semigasa-Furlani, cioè a me quegli atteggiamenti, quel milanismo, quella voglia di vittoria che è addosso, quella carica che ha Furlani è quello che io voglio vedere nel mio Milan, quello che vorrei vedere dal mio allenatore, dai miei giocatori, una carica, la voglia di vincere. Cioè la scena di Furlani che picchia i pugni contro il vetro dei tifosi del Milan, a me mi ha gasato tantissimo, quanto è importante avere un dirigente tifoso come lo è lui. Magari a volte non possiamo andare d'accordo su qualche scelta, come è giusto che sia, non si va sempre d'accordo, neanche con tua moglie vai sempre d'accordo. Però poi la storia che lui è rosso-nero dentro a me ha gasato tantissimo. Raga, ricordo a tutti di iscrivervi al canale, di lasciare comunque un pollice in su se la scena di Furlani vi ha gasato anche a voi. Gruppo Whatsapp, per chi vuole entrare nel gruppo Whatsapp mio e di Surf Sport, mandatemi il numero di telefono su Instagram o se no mi mandate una mail con il numero di telefono, la mia mail la trovate in descrizione. Raga, ho un paio di cose, visto che è finita l'ottava giornata di campionato e quindi come tutti i lunedì ne voglio parlare con voi. Allora, al netto delle polemiche e bisogna essere onesti, io lo dico da tifoso del Milan, lasciando perdere il fatto che dopo sabato ero galvanizzato come una molla e la domenica ero veramente... Come fai a non essere gasato da un risultato così positivo da essere il primo in classifica? La questione del fallo di Manno, quello che tutti dicono fallo di Manno, che poi alla fine le immagini non sono chiare, io onestamente vi dico che mi sta bene, è un gol preso, l'han detto in tante moviole, che comunque l'immagine non è netta, non è nitida e quindi è giusto quello che ha scelto l'albitro. Però dico anche che posso capire le incazzature degli avversari perché siamo sinceri, raga, se quel gol lo davano all'Inter avremmo fatto la stessa cosa degli sfinteristi, ci saremmo incazzati o se lo davano alla Juve apriti cielo. Quindi ci sta l'incazzamento dell'avversario. Detto questo, per noi invece da tifosi rossoneri fa a pari col gol di Udoge e poi ce ne sono state tante. Quindi io me lo prendo ed è giusto che sia andata così. Come mi ha fatto molto incazzare ed è stata giusta la risposta di Magic Mike, l'espulsione di Magic Mike. Che ci può stare? Per carità io non contesto l'espulsione di per sé. Intervento, il ruento del giocatore è entrata. Però i portieri escono sempre col ginocchio alto e in quella maniera lì. Forse è stato più spaventoso il contatto di per sé che l'è. E avere attaccato così mediaticamente chiedendo chissà quante giornate per l'intervento di Magic Mike l'ho trovato assurdo, vergognoso, scandaloso. È stato espulso? Va bene così. Però sappiate che in tante partite ho visto il portiere uscire col ginocchio alto. Non l'ho trovata una cosa così scabrosa. Detto questo, è quindi giusta la risposta. Hai fatto bene, ha fatto bene Magic Mike a rispondere a Zangrillo. Zangrillo che secondo me dovrebbe scusarsi. Scusarsi perché io capisco che a fine partita gli animi si hanno tesi e si sbotta per un po' come è andata un po' la partita. Che poi se rivedi ci sono anche cose che anch'io contesto. Il giallo di Teo Hernandez che mi fa andare a giocare contro la Juventus senza Teo. Inesistente completamente. E poi le ho lanciato in porta. Cazzo fermi l'azione per espellere il portiere del Genoa. Prima vado a fare gol perché andavo a fare gol. E chiudevo la partita. E poi espelli. Quindi ci sono stati episodi anche contro il Milan. Ma quello non bisogna dire. Lo bisogna solo dire le cose che sono andate a favore secondo alcuni. Detto questo l'ottava giornata ci dice cose. Ci dice che il Napoli è in grave difficoltà. È in difficoltà di gioco. È in difficoltà di risultati. Ha un allenatore che comunque è scarso. Raga è scarso. Ditemi quello che volete ma è scarso. Che ha perso gli automatismi che Spalletti gli aveva dato. Che soprattutto ha perso le certezze di alcuni giocatori che Spalletti aveva dato. C'è un Vara Scheyer riconoscibile. Osimè è sempre il solito. E ci sono sei rigori in otto partite. Che c'erano eh. Io non dico che non c'erano. Però voglio evidenziare questa cosa. Perché se sei rigori li avessero dati al Milan in otto partite. Apriti cielo. Apriti cielo. Avrebbero trovato i puntini sulla I per dire che questo, quello, quell'altro rigore non c'erano. Apriti cielo. Sei rigori in otto partite sono tanti. Sono tantissimi. Però tutti fanno finta di niente. Va bene. Anche io infatti dico contestare sei rigori se ci sono è da coglioni. Però anche se succedono al Milan poi non vanno contestati. C'è un Milan capolista. Un Milan che è primo. E questa cosa mi galvanizza. Galvanizza tutti noi tifosi. Non abbiamo giocato una gran partita col Genoa. Però ci sta anche la stanchezza Champions. La stanchezza Champions ce l'hanno tutte le squadre. Quindi abbiamo il diritto di averla anche noi. Quindi io non contesto la prestazione. Contesto però il fatto che continuano a mancare idee di calcio offensivo. Occasioni da gol. Perché se Pulisic non si inventava la giocata. Quella partita finiva 0-0. Anche se la giocavamo 180 ore. Continuiamo a avere problema con l'attaccante. Perché l'attaccante non segna. Poi che abbia fatto grandi parate. Quello che vuoi. Grande girù. Immenso girù. Però le nostre punte non segnano su azioni. Jovic è giusto. Ha fatto bene Mr. Pioli a farlo giocare. Perché comunque dobbiamo trovare almeno Jovic. Perché è uno che se lo mette in condizione può fare i gol. E però siamo primi. Tutto il resto conta un cazzo. Sette vittorie. Una sconfitta nel derby. Derby pesante. Per carità dove ci avete asfaltato. Però il derby vale tre punti. Il Milano è primo. Cioè potete vincere anche due derby. Ma se io arrivo primo a fine campionato. Me ne sbatto il cazzo. Ve li lascio tutte e due. Noi vinciamo il campionato. Voi la coppa dei derby. Se siete contenti così. Vede un Inter forte. Forte. Perché quando si scherza si scherza. Però quando bisogna essere seri. Bisogna essere seri. Un Inter veramente forte. Che ha due squadre forti. Con un allenatore. Secondo me. Che non è in grado. Di gestire. Una rosa. Che ha tutte queste alternative. Fa fatica. Un po' perché boh. C'è la sua squadra. In mente c'è la sua squadra. E vuoi giocare sempre con quella. Pur sapendo. Che cavolo in panchina. Anche se magari. Fai stare in panchina. O Barella. O Michitalia. Ne metti frattesi. Anche se non fai giocare di Marco. E metti. Carlos Augusto. Non ti cambia tanto. E quindi è un limite. Questa cosa qua. E una Juventus solida. Che ha fatto comunque. Un'ottima partita. Domenica e sabato. E che romperà i coglioni. Dirà. Dirà la sua. Tutto questo. Dobbiamo cercare di non metterli noi in vita. Perché dobbiamo dargli la mazzata. Cioè. Se battiamo la Juventus in casa nostra. Sarebbe un colpaccio. Pazzesco. Pazzesco per il campionato. Vorrebbe davvero dire. Corsa a due. Milan e Inter. Le romane sono. Sono risorte. Dalle loro ceneri. Comunque. Sempre. È una fortuna. Aver giocato. Contro la Roma. Senza Di Bala. E senza Lukaku. Lukaku. Mostra a tutti. Che è un giocatore forte. Sta facendo bene quest'anno. Alla Roma. Sta facendo davvero benissimo. E quindi. Però. La distanza si darà. 10 punti hanno da noi. La Lazio. Si. Gioca. Giochicchia. Però. Non la vedo. Però. Tutte e due. Possono entrare in corsa. Per il quarto posto. Quello. Si. Complimenti alla Fiorentina. Un calcio spettacolare. Grande italiano. Una volta l'ho criticato. Però. Complimenti davvero. Meritano la posizione. Che hanno. Raga. Sempre Forza Milan. Iscrivetevi al canale. In queste due settimane. Magari ci saranno più shorts. Che video. Pomeridiani. Perché. Alla sosta. Salvo notizie clamorose. C'è poco da dire. Sempre Forza Milan. Alla sosta. Grazie a tutti.